Ok, buonasera a tutti e benvenuti sul mio blog. Oggi ho il piacere di ospitare Giampiero Gramaglia, un giornalista di grande esperienza che ha ricoperto ruoli significativi nel panorama dell'informazione internazionale. L'obiettivo di questa intervista è informare i giovani italiani sulle elezioni presidenziali degli Stati Uniti, un evento che approfonda implicazioni non solo per l'America ma anche per il resto del mondo. Giampiero è stato corrispondente per oltre 20 anni da importanti capitali come Bruxelles, Parigi o Washington e ha ricoperto la carica di direttore dell'ANSA, una delle principali agenzie di stampa italiane. Attualmente, oltre a collaborare con vari media tradizionali online, insegna giornalismo alla Sapienza e all'Università di Urbino. In questa intervista dunque approfondiremo le dinamiche elettorali e le questioni che stanno animando il dibattito politico e l'importanza del coinvolgimento dei giovani in questo processo democratico. Ho selezionato dunque per il nostro ospite tre domande e partirei con la prima. Quale sarà l'impatto che avrà la vittoria delle prossime elezioni di uno dei due candidati, Trump o Harris, a livello globale? La elezione, intanto grazie per l'invito a Ginevra e per l'introduzione. L'elezione del Presidente degli Stati Uniti, oltre che essere, a partire dalla campagna elettorale, il più grande spettacolo politico al mondo è anche un momento che tutti i paesi seguono con attenzione perché il Presidente degli Stati Uniti o la Presidente degli Stati Uniti hanno la capacità di incidere sulle relazioni internazionali e sui rapporti bilaterali perché al di là di momenti di appannamento che ci possono essere, gli Stati Uniti sono la principale potenza politica, la principale potenza militare e a pari merito con la Cina o almeno a parità di PIR con la Cina e con l'Unione Europea nel suo insieme la principale potenza economica. Quindi su tutti e tre i fronti hanno una capacità di incidere e di determinare l'andamento delle relazioni internazionali e anche il clima delle relazioni internazionali che è molto elevato. Per questo c'è sempre attenzione interrogativo cosa succederà se cambia il Presidente, quest'anno cambierà di sicuro perché ci sarà una discontinuità poiché il Presidente in carica non è candidato alla propria rielezione con un evento anche traumatico e non abituale che il ritiro della candidatura a soli quattro mesi dalle elezioni e quindi le attese sono molto alte e anche le preoccupazioni perché da una parte dei due candidati abbiamo un candidato già sperimentato nel ruolo di Presidente Donald Trump anche se lui continua a presentarsi come una sorta di outsider della politica, uno che non concentra con l'establishment e con il potere però è già stato Presidente per quattro anni e in quei quattro anni l'Unione Europea, l'Europa e anche il mondo hanno sperimentato la capacità di discontinuità di cui Trump è capace e anche l'imprevedibilità di certe sue decisioni. la presidenza o l'arrivo alla presidenza di Harris, di Kamala Harris avrebbe forse meno incognite per quanto riguarda la linea politica, avrebbe la novità della prima donna Presidente degli Stati Uniti e della prima afroamericana e indianoamericana di origini alla presidenza degli Stati Uniti ma la linea, almeno per quanto riguarda le relazioni con l'Europa, le relazioni con l'Alleanza Atlantica il rapporto o la posizione nel conflitto in Ucraina e la posizione nel conflitto in Medio Oriente dovrebbe restare sostanzialmente simile a quella dell'amministrazione Biden. Grazie mille. Passo alla seconda domanda anche se hai dato una piccola anticipazione dunque nello specifico quale sarebbe l'impatto sull'Europa e sull'Italia? In parte si sovrappongono le due cose perché ovviamente quello che influenza le relazioni USA-UE influenza le relazioni USA-Italia. Però in questo caso specifico ci sono delle differenze o almeno delle peculiarità che meritano di essere esaminate. Allora intanto vediamo Stati Uniti-Europa dove con Europa intendiamo l'Unione Europea e intendiamo la componente europea dell'Alleanza Atlantica che è l'alleanza politico-militare tra il Nord America e l'Europa in cui sono coinvolti praticamente tutti i paesi dell'Unione Europea quasi tutti oltre ad alcuni dei paesi candidati all'adesione all'Unione Europea. Allora una presidenza Harris non cambierebbe quasi nulla nel rapporto attuale tra l'America e l'Europa intesa sia come Unione Europea che come Nato. Anche se l'attenzione strategica e economico-militare degli Stati Uniti è forse volta più verso il Pacifico che non verso l'Europa in questo momento o verso il Medio Oriente per la situazione conflittuale che abbiamo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia ha alzato l'interesse e la preoccupazione americana per l'Europa che è tornata ad essere il terreno di confronto con la Russia di Vladimir Putin ricreando un clima che era quello della guerra fredda che si credeva chiuso e superato nel 1989, tra il 1989 e il 1991. Quindi Kamala Harris confermerà probabilmente la vicinanza all'Alleanza Atlantica la protezione nucleare e militare degli Stati Uniti sull'Europa Atlantica non aprirà conflitti o contenziosi particolari con l'Unione Europea sul piano economico e commerciale anche se conflitti di carattere economico e commerciale sono ricorrenti tra Stati Uniti e Unione Europea e non vanno drammatizzati a seconda delle situazioni economiche dell'uno e dell'altro ci possono essere dei contrasti. Diverso è il discorso se arriva alla Casa Bianca Donald Trump se torna alla Casa Bianca Donald Trump che non ha mai manifestato una particolare attenzione e neanche un particolare rispetto per l'Unione Europea e per la Nato anzi ha sempre mostrato una certa insopferenza per l'Unione Europea preferendo sempre dialogare con i singoli paesi che con la loro rappresentanza collettiva e ha recentemente di nuovo avuto espressioni molto poco lusinghiere nei confronti dei paesi europei dell'Alleanza Atlantica il suo mantra è pagate se volete essere protetti come se l'Alleanza degli Stati Uniti fosse a gettone e non basata su valori comuni e su interessi comuni condivisi probabilmente questo atteggiamento sarà riproposto almeno questo è quello che lui ha ripetutamente detto questo cambierà probabilmente l'atteggiamento degli Stati Uniti nei confronti dell'Ucraina del resto Trump ha detto che se diventerà presidente se gli europei non pagheranno dirà al suo amico Putin che li può invadere e che a lui non importa nulla qui probabilmente questa espressione in modo così rozzo è una pressione sugli europei perché paghino però insomma non rassicura in caso di ritorno di Trump alla Casa Bianca l'Italia in questo contesto l'Italia in questo contesto e in questo momento merita un discorso un po' più sfaccettato perché la posizione italiana e la tradizionale posizione di politica estera italiana è filoeuropea nel senso di filointegrazione europea e filoatlantica nel senso di vicino agli Stati Uniti nelle relazioni transatlantiche e nelle scelte strategiche l'attuale governo che non è un governo filoeuropeo che non è un governo europeista ha però confermato la linea atlantica ed è anzi uno degli esecutori o dei paesi che più rispettano nei confronti dell'Ucraina la linea indicata dagli Stati Uniti all'alleanza atlantica e seguita dall'alleanza atlantica e questo viene costantemente confermato anche nell'incontro che c'è stato mi pare a marzo alla Casa Bianca tra la premiera italiana Giorgio Ameloni e il presidente statunitense Joe Biden questa linea è stata confermata però le forze di questo governo almeno due delle componenti politiche dell'attuale governo e cioè la Lega e Fratelli d'Italia hanno più vicinanza politica con Donald Trump che non con Kamala Harris quindi è almeno una di queste due forze la Lega lo esprime in modo molto chiaro mentre un'altra componente del governo Forza Italia invece indica una preferenza per Joe Biden a rendere ancora più complicato il mosaico italiano è il fatto che anche una delle forze di opposizione almeno il leader di una forza di opposizione sembra avere nostalgia di Donald Trump il capo del Movimento 5 Stelle l'attuale capo politico del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte che in quanto presidente del consiglio del governo Lega 5 Stelle ebbe un buon rapporto con Trump sembra ogni tanto avere nostalgia di quel rapporto quindi diciamo che la competizione elettorale negli Stati Uniti in questo momento crea degli spartiacque nella maggioranza e nell'opposizione italiana e potrebbe esporre a diversità di approccio nel caso Trump andasse alla Casa Bianca nel caso ci andasse Harris nel centro-destra e nel centro-sinistra nel centro-destra prevarrebbe l'atlantismo siamo sempre stati atlantici continuiamo a essere atlantici e nel Movimento 5 Stelle probabilmente la nostalgia di Trump verrebbe rapidamente dimenticata grazie mille la ringrazio moltissimo e passerei brevemente all'ultima domanda cosa rende le elezioni americane così diverse da quelle italiane e c'è qualcosa di davvero particolare che i giovani italiani dovrebbero sapere? beh la cosa che le rende più diverse a parte il peso internazionale è che quando uno vota per il presidente degli Stati Uniti vota per la persona più potente del mondo e quando uno vota per le politiche italiane vota per il premier italiano e non si va molto oltre ma a parte questo fatto la cosa più diversa è che gli Stati Uniti votano con un meccanismo complicato che lei ha spiegato benissimo a chi segue il suo blog ma con lo stesso meccanismo da quasi 250 anni mentre gli italiani vanno a votare con leggi elettorali che cambiano molto frequentemente perché i partiti al potere hanno spesso la tentazione di cambiare la legge elettorale in modo che loro pensano a loro favorevole poi magari qualche volta non ci azzeccano e le cose cambiano quindi gli americani hanno un sistema politico che nel tempo e sono passati due secoli a mezzo si è adeguato al sistema elettorale e gli italiani hanno un sistema politico che non trova una sua come dire una sua configurazione stabile proprio perché il sistema elettorale continua a cambiare il dato della continuità del sistema elettorale non è solo americano è anche francese britannico tedesco direi che l'anomalia è l'Italia che lo cambia sovente e quindi ha un panorama politico cangiante dopodiché andare a votare soprattutto se si è alla prima esperienza elettorale come probabilmente molti dei suoi lettori e di chi la segue sono andare a votare non solo è un dovere civico però è anche il modo più diretto e più incisivo per esercitare il proprio potere di cittadino dando un indirizzo a quelle che saranno le scelte del del paese non soltanto a livello nazionale ma per quanto riguarda l'Italia anche dentro l'Unione Europea è in misura più marginale dentro l'Alleanza Atlantica quindi è un'occasione la migliore occasione per farsi sentire e non si capisce proprio perché uno debba rinunciarci grazie mille la ringrazio moltissimo nuovamente per il suo prezioso intervento e la sua disponibilità e invito tutti gli spettatori a rimanere connessi al mio blog per conoscere altre curiosità e informazioni sulle lezioni americane grazie ancora grazie mille grazie mille